Benvenuti ragazzi o bentornati sul mio canale, sono Divix, un'altra partita dell'Inter, un'altra partita dominata dall'inizio alla fine. E anche se questa volta, giocando con la Salernitana, qualcuno poteva pensare che sarebbe stata una passeggiata, ho letto diversi commenti di più o meno esperti, anche di pronostici, che dicevano occhio perché l'Inter sta vincendo tante partite di fila, questa partita che sembra la più facile sarà quella che ci darà una sorpresa. Così non è stato. L'Inter non ci ha dato nessuna sorpresa, ha giocato un'altra gara perfetta dall'inizio alla fine, 5-0. Questa volta non devo neanche recriminare tanto di occasioni sprecate, nel senso che l'Inter ha prodotto tanto e ha concretizzato tanto, più o meno in proporzione a quello che ha prodotto, e si è visto un'altra volta il gioco di Inzaghi che, qualsiasi sia l'avversario, riesce a ripetersi costantemente. Cioè, noi in questo momento abbiamo tutti chiaro in testa come gioca Inzaghi, come gioca l'Inter di Inzaghi. Ed è un gioco che caratterizza questa squadra in tutti gli elementi e anche nei panchinari. È vero, ammetto che l'Inter ha una rosa molto lunga e molto forte. Avevo detto all'inizio anno, probabilmente negli 11 iniziali siamo meno forti, ma la rosa è più lunga e quindi darà più opzioni e più rotazioni al mister. E si sta sentendo, devo dire la verità, si sta sentendo questa rosa più lunga, soprattutto sugli esterni ma anche davanti. Oggi gioca titolare Alexis Sanchez, fa anche una grande partita. E quindi l'Inter ha varianti. Oggi Gekko non ha segnato, non ha fatto una bella partita. Immaginiamoci l'anno scorso una partita in cui Lukaku gioca male e non segna. E attenzione, perché se l'anno scorso Lukaku non l'avesse ne giocato bene e ne segnato, sicuramente l'Inter avrebbe faticato. Quindi noi abbiamo in questo momento una squadra che, nonostante oggi Gekko non abbia fatto una grandissima partita, ha vinto 5-0, ha dominato l'avversario. E quello che mi piace guardare quando l'Inter fa questo tipo di gare sono proprio le facce degli avversari. Cioè le facce degli avversari che allargano le braccia, come dire, più di così cosa possiamo fare. Vi faccio vedere anche la prima pagina di OneFootball. Inter prova di fuga 5-0 a Salernitana, più 4 momentaneo sul Milan. Dentro c'è l'articolo che parla della gara, primo tempo, secondo tempo, marcatori, formazioni, tutto quello che potete trovare sulla partita di questa sera nell'articolo di OneFootball. Il link è in descrizione per scaricarvi anche l'applicazione, se la volete, sul vostro telefono. L'Inter in questo momento non ci sta dando sorprese, l'ho già detto prima. E questa continuità è un qualcosa che nel calcio è veramente, veramente raro trovare. Anche la Juventus negli ultimi dieci anni, che ha vinto praticamente tutti gli scudetti, anche negli anni in cui dominava, non ha mai prodotto una quantità di gioco così continuativo e così bello. Cioè ha vinto tante partite, soprattutto si è parlato spesso di vittorie per giocate di singoli, ma l'Inter sta giocando sempre bene a calcio, lo fa sia quando vince che quando perde. Anche quando ha perso contro il Real Madrid, ho detto abbiamo giocato contro il Real Madrid una grandissima gara. E questo secondo me è un primo aspetto importantissimo. Il secondo aspetto è che Inzaghi ha rigenerato completamente dei giocatori che sembravano assolutamente morti o comunque giocatori che sembravano mediocri fino ad un anno fa. E vi farò una domanda in un giorno bruttissimo, perché oggi è un giorno in cui l'Inter ufficializza l'addio a Christian Eriksen. Stavo parlando con i miei amici e vedendo la prova di Cianoglu di questa sera, un'altra prova mostruosa, una prova veramente eccezionale, grandissima, continuità, quantità, qualità, tiri in porta, assist, calci d'angolo, fa tutto, Cianoglu fa tutto, il centrocampista è un tuttocampista, non è un centrocampista, Cianoglu è un tuttocampista. E ho fatto una domanda molto provocatoria ai miei amici, ho detto ma oggi scambiereste Cianoglu con Christian Eriksen? Ovviamente è una domanda provocatoria e anche triste a fare in un giorno così, però è una domanda che nella mia testa ce l'avevo, perché vedendo giocare così l'Inter, vedendo giocare così Cianoglu, dico cavolo, veramente l'Inter con Cianoglu ha fatto un grosso passo in avanti, cioè il centrocampo dell'Inter oggi è veramente tanta 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 roba. Poi però mi sono detto, Persic l'anno scorso era inguardabile, Vidal l'anno scorso era inguardabile, Gagliardini l'anno scorso era inguardabile, quest'anno gioca due partite, fa due gol, Sanchez l'anno scorso non giocava mai, le poche volte che ha giocato sembrava un ectoplasma e non segnava mai. Cosa avrebbe potuto darci Ericsson in questa squadra? Cosa avrebbe potuto dare all'Inter, uno dei migliori centrocampisti d'Europa, in questa squadra che gioca questo calcio così spettacolare? Non lo sapremo mai, questa è una brutta notizia che si va ad aggiungere la bellissima prestazione dell'Inter questa sera, però, però, devo dire che l'Inter, Ausilio e Marotta, sono stati veramente bravissimi ad andare a prendere un giocatore sul quale io stesso non avrei puntato un euro, nel senso che gratis l'avrei preso e sono stato felice quando eri arrivato all'Inter, però non avrei mai scommesso che sarebbe diventato un giocatore così forte e così determinante. Sapevo che era un giocatore che era in grado di creare, di creare gioco, di fare gioco, di creare occasioni da gol, ma la continuità, la forza di volontà e la testa con cui ha preso questa squadra sulle spalle è veramente, veramente qualcosa di straordinario per cui faccio i complimenti dell'Ausilio e Marotta che in una situazione di emergenza hanno tratto veramente il massimo spendendo zero. Quindi complimenti, complimenti a Ciananoglu e un grandissimo in bocca al lupo a Christian Eriksen, sapete che è un giocatore che io ho sempre adorato, secondo me all'Inter ha espresso il 10% del suo potenziale e nonostante ciò ha vinto uno scudetto chiedendo anche il campionato da titolare, quindi sono contentissimo che l'Inter sia stata la prima squadra a dargli una vittoria così importante, lui la cercava e sono contentissimo che l'abbia trovata all'Inter in bocca al lupo spero di vederlo ancora sul campo al più presto. Torrando a parlare di Inter e dei giocatori attuali, oltre ai soliti nomi cioè Brozovic, impeccabile, bastoni impeccabili, il ritorno di De Vrij, spendo due parole per Danilo D'Ambrosio, perché non so se la scelta di D'Ambrosio sia derivata da una rotazione o da una scelta tattica, nel senso che non so se Inzaghi ha fatto turnove o ha scelto D'Ambrosio per motivi tattici, però l'Inter quando trova squadre che si difendono ed è un concetto che mi porto dietro già dall'anno scorso, a me faceva molto male vedere giocare l'Inter con tre difensori centrali contro squadre che si difendevano tutte, ecco, D'Ambrosio è un terzino aggiunto, D'Ambrosio dà qualità e D'Ambrosio soprattutto aiuta Dunfris aiuta Dunfris che ha fatto una grandissima gara e ha segnato e sono felicissimo di vedere giocare Dunfris così, sono felicissimo di vedere giocare Dunfris così, sta prendendo coraggio e credo che possa ancora migliorare, abbia degli ampi margini di miglioramento, l'infortuno di Darmian è arrivato in un momento perfetto, nel senso che lui ha potuto giocare delle partite dove l'Inter era in controllo e ha preso fiducia, quindi non ha avuto la pressione di dover giocare partite impegnative, tanto impegnative e devo dire che si vede l'Inter ha ritrovato che sicuramente ci potrà dare ancora tantissimo nella finale di campionato, parlano di D'Ambrosio, la scelta di giocare con D'Ambrosio o con Di Marco nei tre dietro quando le squadre si difendono, l'Inter ha chiuso praticamente con un difensore centrale, cioè De Vrij più Di Marco e D'Ambrosio, questa scelta mi piace tantissimo, mi piace da morire perché è una scelta veramente moderna che fa vedere quanto Inzaghi sia un allenatore non solo offensivo che gli piace giocare a calcio ma quanto Inzaghi sia un allenatore che guarda la partita e che cerca di trarre il massimo vantaggio del giocatore che ha quindi bellissimo sono felicissimo di questa cosa parlando per ultimo del gioco di Inzaghi un'altra cosa che mi piace tantissimo è il fatto che l'Inter giochi fino al novantesimo sia che sia 1-0 sia che sia 2-0 sia che sia 3-0 sia che sia 4-0 come questa sera ha provato a trovare il 5-0 fino all'ultimo tutte belle notizie una bellissima Inter quindi arriviamo a giocare contro il Torino in grande fiducia so che ci darà del fio da torce perché il Torino è una squadra un po' più ostica soprattutto anche perché ha un allenatore che pretende tanto i suoi giocatori quindi mi aspetto una partita un pochino più difficile rispetto alle ultime però noi siamo l'Inter e faremo la nostra gara iscrivetevi a cosa se ne pensate dell'Inter di Nzaghi della domanda che vi ho fatto di Eriksen ciao a Noglu noi ci vediamo al prossimo video se non siete iscritti al mio canale e vi piace il calcio ma soprattutto se vi piace l'Inter iscrivetevi ciao ragazzi